Un furto in piena notte ha sconvolto la tranquillità di una viletta bifamiliare a Corropoli dove i ladri hanno narcotizzato gli occupanti e portato via gioielli, oggetti d'oro e danaro contante. L'episodio è avvenuto lo scorso fine settimana. I criminali sono entrati in casa mentre i residenti dormivano. I malviventi hanno forzato tre finestre al piano terra prima di riuscire a penetrare nell'abitazione dove vive una famiglia con un bambino piccolo. Una volta all'interno hanno utilizzato uno spray narcotizzante per immobilizzare gli occupanti, dopodiché hanno rovistato e messo a suo quadro la casa concentrandosi su oggetti di valore come gioielli e contanti, ignorando bancomat e carte di credito. Dopo aver svaliggiato il piano terra, i ladri sono saliti al piano superiore dove vive il fratello del proprietario con la sua famiglia. Anche qui hanno cercato danaro e gioielli devastando l'appartamento. Il furto è avvenuto intorno alle 4 del mattino. A scoprire l'accaduto è stato uno degli inquilini svegliatosi alle 5.30 per andare al lavoro. Ero ancora stordito. Mi sono subito reso conto di quello che era successo e ho chiamato le forze dell'ordine. Forse è stato meglio che non mi sono accorto di nulla, mentre accadeva, ha dichiarato l'uomo. La casa non era dotata di un sistema di videosorveglianza, ma i carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di alcune abitazioni vicine dove sarebbe stato ripreso un furgone sospetto. Le indagini sono in corso per risalire ai responsabili del furto.